i ragazzi e ben trovati in questo nuovo video sono xd su barbara kkk e oggi stiamo su keep talking and nobody explodis ok allora praticamente ci sta questa ci sta una bomba che sta per esplodere e noi praticamente dobbiamo riuscire a disinnesgarla bene come cazzo allora si fa ragazzi io non sono gesbondo quindi quindi ok aspetta cos'è questo? che cazzo? oh prendi oh oh no spegni 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 ok abbiamo capito che la sveglia non serve a niente perfetto allora ragazzi eh allora con calma e con cautela con calma e con calma oh no ho già sbagliato aspetta faste bisogna premere questo pulsante aspettate no niente da fare eh allora tagliamo questo ok perfetto prima tentativo fallito vabbè riproviamo eh raga riproviamo mettiamo 4 minuti e 25 e la bomba già esplode eh perfetto allora eh riproviamo allora se la sveglia lasciamola lì ah vero è difficile eh abbiate pazienza vero è difficile allora eh dobbiamo allora ehm forse filo blu vaffanculo filo giallo sì ok adesso calma eh adesso dobbiamo premere questo no niente da fare cosa dobbiamo fare quale? 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 quale dobbiamo premere? quale? quale? sì giusto è giusto è giusto è giusto è giusto adesso che dobbiamo fare? non lo so no questo no questo non lo premiamo eh premiamo questo qui questo quale questo quale questo 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 qua? no affanculo cazzo ragazzi fassi forse dobbiamo aprire questo pulsante ragazzi cioè fare splattere una bomba è più facile di quanto sembra disinnescare una bomba è più difficile di quanto sembri peggio di fare un combito in classe ok eh quale facciamo? questa? no niente da fare questa? sì è giusto adesso facciamo questa? no questa qua? sì ok 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 ma perché? ma perché non dobbiamo perché non possiamo fare massimo di tre errori? non si non si sa vabbè dobbiamo fare questo? sì perfetto sì è uno adesso ok adesso adesso qua eh sì e qua come cazzo non la faccio a sapere? ok questo? sì ok questo? no cazzo! minchia! sì ragazzi devi sinescare una bomba devi avere culo! ok eh questo? no cazzo lo sapevo questa qua questa qua che cazzo? ma dai ma non è possibile no eh allora premiamo prima questo vaffanculo vaffanculo ok 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 adesso andiamo qua premere questo press sta scritto press vabbè ci facciamo aperto allora premiamo questo ok 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 Madonna Madonna santa Vabbè raga basta io ci rinuncio Veramente ci rinuncio Se sta per sparare una bomba ragazzi Non mi chiamate Vabbè raga Noi ci vediamo alla prossima Commentate, iscrivetevi E tanti likes Ciao